Il gioco d'azzardo colloca la provincia di Teramo al primo posto in Abruzzo con il 5,5% e l'Abruzzo al primo posto in Italia con 1.506 euro di spesa pro capite. Inoltre, il 9% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni fanno uso compulsivo di internet. Dati gravi e preoccupanti che hanno indotto il CERT dell'azienda sanitaria teramana a correre ai ripari, istituendo una helpline di ascolto e aiuto assolutamente anonima. Ci saranno medici e psicologi a supportare chi soffre di questo disturbo comportamentale e sarà diffusa una guida sui rischi del gioco d'azzardo. Già procediamo con l'attività clinica, con dei gruppi di sostegno psicologico, ne sono attivi due a Teramo e adesso, oltre a un lavoro che stiamo facendo da un po' con le scuole, con docenti e familiari, adesso attiveremo una helpline in cui potranno chiamare le persone sia per chiedere aiuto riguardo al rapporto col gioco d'azzardo, magari problematico, o potranno chiamare anche per chiedere aiuto su dei problemi legati all'utilizzo di internet, all'utilizzo dei videogiochi. Da qualche giorno c'è anche un nuovo servizio telefonico. L'Asla di Teramo, infatti, ha aderito al call center regionale, un numero unico che rende più efficiente e veloce la possibilità di prenotazione del vaccino anti-covid. Nell'ultima settimana si è passati da 161 chiamate giornaliere a circa 800. Il 48% della popolazione teramana è stata vaccinata con la prima dose e a breve si inizierà a vaccinare i maturandi. Quali sono i vantaggi del One Call Center? Il vantaggio è che rispetto alla nostra forza che avevamo con il sistema telefonico nostro e di risorse, molto spesso il cittadino che provava a prenotare trovava occupato e non rispondeva a nessuno per ore. Adesso, come dei dati che abbiamo visto, il cittadino può prenotare, decidere, nel caso trovo che fosse occupato può essere richiamato dal CUP telefonico e quindi il contatto necessario è stabilito in maniera agevole. Intanto, i contagi e i ricoveri diminuiscono sensibilmente. Ad oggi sono 21 i ricoverati all'ospedale Mazzini di Teramo e solo due in terapia intensiva. Inoltre l'ASL si è munita di un laboratorio per effettuare in proprio i tamponi molecolari. Abbiamo realizzato e abbliato il laboratorio dedicato all'esame di tamponi molecolari e da qualche giorno siamo autonomi nell'espletamento di tutte le attività inerenti alla lettura di questi tamponi. Riusciamo a gestirli da soli. Ci rivolgiamo solo all'IZS, soltanto per il controllo delle varianti perché le nostre strumentazioni non consentono questo. Grazie. Grazie.